E' bella cremosa Pace, pace, pace Ciao amici di Youtube, che non voglio esciare come mangio ragazzi Siamo in un nuovo video Oggi ragazzi, come ti ho detto a te E come ti sto dando la miniatura Sto mangiando a voto Ebbene si ragazzi, ti devo esciare Maga mangio sempre Si ragazzi, mangio sempre Infatti sto facendo un cazzo di panzone Servirebbe un po' di dieta Vabbè, a parte queste cose Queste piccolezze, questi dettagli Oggi, come ti ho detto dal titolo Mangeremo la migliore carbonara La migliore amatriciana La migliore cacio e pepe I migliori piatti romani A Roma? No, a Napoli Siamo andati a visitare questa osteria romana E ovviamente io sto registrando questa intro Dopo aver fatto il video Dite voi, Sciale, ma come l'hai trovata questa osteria? Io l'ho trovata grazie a TikTok Sapete che nei perte di TikTok escono queste cose Questi posti dove nessuno mai ci è andato Ma sono posti caratteristici Panini, pizze, osterie Trattorie, eccetera E ho visto questo ragazzo Che si chiama Raffaele Tranchese Dove è andato a visitare appunto Questa osteria romana Di nome Carbonà Ho visto il video e ho detto Casi mangia da Dio Io devo andare Ci sono andato Vi ho portato con me Quindi godetevi il video Mi raccomando Tutto il video dovete godervi Perché è veramente una godura assoluta Però ragazzi Io vi chiedo una cortesia Vi chiedo una sola Un piccolo regalo di Natale Che potete fare a me A mio padre A mio fratello E al canale Sciale Boom E non lo pagate neanche questo regalo Ragazzi vi dovete iscrivere al canale Dobbiamo arrivare al più presto Ai 400.000 iscritti Iscriviti 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 È gratis Forza Clicca quel tasto Iscriviti al canale Detto questo Mi sto dilungando troppo Vi auguro una buona visione Ciao Ragazzi ci troviamo qui In questa osteria romana Che si trova a Villaricca In provincia di Napoli Si chiama Carbonà Siamo arrivati finalmente Assaggiamo vari piatti C'ho fame C'ho fame Vari piatti romani Attenzione Romanischi E lo sapete A noi ci piace molto La cucina romana Carbonara Patriciana Di tutto e di più Qui in questo omale Potete trovare queste pietanze qui Abbiamo i menù qui E vediamo quello che ci portano Vediamo Qua c'è stato di tutto Cristian Cacio e pepe Amatriciana Cricia Vaccinara Zuzuna Pecorara Carbonara Carbonara Te conosco buono Chef Lei cosa prende Io prendo La Cricia Ah la Cricia Cristian prende la Carbonara Tu prendi la Cricia Io prendo Amatriciana Cacio e pepe Cacio e pepe Cacio e pepe Allora cacio e pepe La cucina Dice che l'ha riconosciuta Chef Franco Si Esatto Grazie Allora già è famoso Da lui di Carbonà Già è famoso Eh perché Cristian si è presa la Carbonara Loro si prende una Amatriciana Maggia mi chiamano Cacio e pepe Amatriciana Si cacio e pepe Cacio e pepe Due amatriciana Che coppia Abbiamo ordinato Devo dire la verità Questi primi romani Mi fanno venire L'acquolina Io devo dividere Non devi assaggiare Non devi assaggiare Lo chef mi ha riconosciuto Ha detto Trattate bene Chef Franco Franco Con la G Sono veramente curioso Sapete Oggi i piatti romani A me mi fanno Il pazzito Nel frattempo Che arrivano i primi Devo dire la verità Il locale È bello È caratteristico Molto caratteristico È addobbato anche In maniera natalizia C'è l'albero È abbastanza grande Devo dire la verità Non c'è neanche tanta gente Sembra proprio Il locale romano Esatto Sembra proprio Il locale romano Cioè non sembra Che stai a Napoli È bello È bello San Maggiugiano San Maggiugiano Di preciso Villa Ricca Ragazzi Sta venendo Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando La matriciana Ragazzi è arrivata La mia Cacio e Pepe Bellissima Profumatissima Si sente Cristiana Ma tu c'hai troppa fame Cristiana è arrivata La mia maiusa Carbonara Carbonara e Cristiana Un bell'aspetto Devo dire la verità È arrivata la Grisha È arrivata anche La matriciana Della mia ragazza Ed è arrivata La Grisha Di Chef Franco Ragazzi Ma io però Chef Franco Non lo posso superare Chef Franco Con un bruno Questi siamo pronti Ad assaggiare Ma non c'è un'acquolina In bocca Assaggiamo La cacio e pepe Ragazzi Questa carbonara Devo dire la verità È un bellissimo aspetto Buon appetito Buona cacio e pepe Bellissimo Aiu Siamo a Roma È spaziale Veramente Siamo a Roma È spaziale Ma io è buonissimo Devo dire la verità Il fecorino Bello Giusto Pepe anche È una cosa Buonissima Buonissima Fran Assaggia No sto vedendo voi Come Buonissima Sì sto vedendo la qualità Ma secondo me Questa pure Voglio sapere il tuo giudizio Vabbè ci stessi piatti Un po' di pino No Calvati Allora Faccio sapere subito Buonissima E' buona Me ne vado Complimenti allo chef Mamma mia E' speciale Credetevi E' speciale Ma è poco buona Ma se chiudo gli occhi Sembra di stare a Roma Vedo il colosseo Io vedo il colosseo Ma credetemi ragazzi E' unica Bella eh Meno aggressiva di questa Sì Però Il grasso del guanciale Ha dato un sapore in più Eh ma io sto già Della maticiana Ma è buonissima No ma pure la pasta Il tonnarello è fresco Si sente Dai mi sono scoppiato E' bella cremosa Non ci sono crumi E la cacio e il pepe Credetemi è più difficile Della carbonara e della maticiana Come lo piatto Te lo direi una cosa Dai qua No ma la tua è bellissima E' crema ragazzi No Facciamo un attimo cambio Adesso c'è già un po' di carbonara Bravo Vediamo com'è Il guanciale non è tagliato A listarelle E' più piccolo Quindi ha più sbetti Carbonara Guardi un po' di cenagos Sto mangiando Un tonnarello Spettacolare Sembra di stare a Roma Ha un sapore particolare La posso assaggiare prima Sì Allora volevo sapere un attimo Ti passo questo Vieni E' buona E' buonissima E' cremosissima Però non sa proprio Quella carbonara Che facciamo noi Dall'uovo Dal formaggio Che si usa Guardate che crema Bellissima Io penso che la mia Sia di una bontà unica E' saporito Però per me la cacio e il pepe E' veramente speciale La più buona che abbia mai assaggiato Io a casa non la faccio La mia sapore è Che no mi ha petto Eh però non deve essere Il pepe si sente Sì ma Guarda assaggiare a mamma La tua carbonara E' ottima Però secondo me la cacio e il pepe è più buona Non so il perché Ma ha fatto tutto d'addio E' vero E' le cremosi Ecco Finito Mi hai fatto scappetto Eh certo Questa è la matriciana Se l'è presa la mia ragazza E si è presa anche la mia mamma Qua Cosce Allora dall'aspetto ottima L'odore si sente Forse un po' troppo oliosa Guarda da troppo olio qui Eh sì Troppo olio Non so se lo vedete Prendiamo due ricadoni E' buona Speciale Non è troppo olio E' bella condita eh Oddio questo è pesantissimo Questa si digerisce domani Che lo dico Eh ma è buonissimo Anche il pezzettino di manciare Cristiano sta finendo di manciare la sua carbonara Troppo buona Mamma mia Non ti pianto Mentre io e Franco Abbiamo già finito A considerazioni di questi primi Posso dire una cosa ragazzi Spettacolare Veramente è buono Il guanciare è ottimo Secondo me Ci azzecca bene pure il tonnarello Un po' il formaggio Troppo piccantino Troppo piccantino Sì Troppo forte Qualità Qualità Veramente qualità Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo di trovare Sti primi romani Qui a Napoli Così buoni Buoni poveri c'è Come si si sta a Roma E io ho un po' di scarpettaggio Scusatemi Eh ovvio Usate la laidata Ma secondo Scarpetta Nel succo di amatriciana Della mia ragazza Godo Noi c'è una cosa Ma che prendiamo I secondi Facciamo Pari Ha visto pure Il fior di zucca Ripieni Ha visto pure Puppetto al succo di amatriciana Assaggiamo anche i secondi Perché noi poi io Non abbiamo preso Neanche l'antipasto Non abbiamo preso niente Siamo partiti subito Con i primi E diciamo Pura buffata È giusto È giusto Perché proviamo I primi romani Gli ho fatto anche complimenti Allo chef Cristia sta facendo ancora La scarpetta Sta ancora mangiando Il suco di carbonara No Cristiana Tu mi fai godere così Allora Invece di prendere i secondi Abbiamo preso alcuni antipasto Abbiamo preso la bruschetta Con il guanciale Abbiamo preso le polpettine Al suco di amatriciana Il fior di zucca E suppli Quindi abbiamo preso Tutte queste cose qui E le assaggiamo Ragazzi ci siamo con gli antipasti Sono arrivati Allora le pupette Fior di zucca Suppli Bruschetta con ricotta Di tutte Ricotta Non so che è stracciatella Non lo so che cos'è Sei pronto Cristiana Oh oh Stai parlando troppo assaggine Non ne hai mai parlato Davide Donne Non ne avevo parlato Ma io so Questo è stato bello Ragazzi Noi aspettiamo Come fa Come aspetta Come è Cristiana Vabbè ma la spiegazione ci vuole Ci vuole la spiegazione Cazzo ci sta cosa Assaggia Stracciatella Stracciatella e guanciale Vabbè faccio metà Voglio far stracciare pure a mano Vabbè faccio cin 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 La salute Buona 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 Il pane me lo aspettavo più croccante No Bravo Ok Guardate questo E' buona 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 Assaggiamo il soup Che si chiama Spacca tutto il suo re No re Un re Mmm Mmm Questo soup lì Questa arancina Buono Il sapore Il riso doveva essere un po' più cotto Grazie assaggio pure io Il riso Il sapore è ottimo Il riso doveva essere un po' più cotto Eppure quello è un po' più grande Chef la dobbiamo assaggiare anche le polpettine Ragazzi Mo' vi faccio sapere queste polpettine All'amatriciano come sono Però Perchè già piacerebbe che se mi mangiasse Tu quant'è Però vi assaggià Questo è il pallo tuo ciucci Nooo Il cuore? Chissà Questo mi sono piaciuto tantissimo Ragazzi Voglio assaggiare Io una polpettina Questo è all'interno come si presenta Quindi è anche bella cotta Oggi mangiò il biatanata Oh Biatanata polpette Eh mi piace Sono buone Il polpette è buonissima Ragazzi Mi è piaciuto il polpette eh Buon Sai perché? Si è musso pure la matriciana Eh Saporite Saporite pure dentro eh Secondo me Guardate che bella pentolina Ci hanno capito sei polpette Non so come Però ci hanno capito C'è anche la salsa, qua devi azzuppare. Ci manca da assaggiare il fiore di zucca. Eh, il fiore di zucca bello assaggiato. È la metà? Sì. Con la ricotta, quindi ripieno. Andiamo. Buono, buono. Mi fa andamare il cocci. Adio, i primi gli antipasti è buonissimo. Buoni. La ricotta è buona, fratello. Buona, buona, buona. Facciamo mangiare. Ho freddo, voglio. Voglio, mia moglie si è mangiato due cestini di pane. Univo una fettina di pane. Adesso ti è mangiare la camminare, oh. C'è pane, 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 pane. Sì, perché è buona la roba. Pace, pace, pace. Oh, ci manca una cosa, eh, però, fissià. Un poco di energia, un po' di Coca-Cola, ragazzi. A me non me l'ho messo. A te fa male, ce la ce la vai. Con i primi e con gli antipasti, devo dire in realtà. Ma spai, io so già questo, non l'ho trovato. Ah, scusi, fissià. Ciò, lì, ti fa mancare la pietanza a Cristian, no? È buono. Molto buono. Molto buono. Molto buono. Ragazzi, abbiamo mangiato prima e viaggiato questi antipastini, però, di realtà, siamo molto contenti. Poi facciamo le considerazioni finali dopo. Allora, un po' faccio sorprendere un po'. Secondo me... Buco in petto. Buco... Cioè, mi sento... Stanno anche a pane e orecco. Ma con il cuore, ragazzi, secondo me. Ragazzi, siamo usciti. Abbiamo pagato, abbiamo messo anche un caffè. Allora, il prezzo ci sta, dai, è onesto. No, io dico la verità. Io sono dico per i primi e devo dire qualità, prezzo. Qualità, prezzo, ottima. I primi erano buoni. Volevo dire la verità, il cacio e il pepe secondo me era la più buona, ma proprio la margiana, la carburata. Molto, molto buone. Si sentiva proprio questi sapori romani, un po'. Esatto. Cioè, erano i prodotti, erano buonissimi. Veramente approvato, anche per il prezzo, approvatissimo. Quindi, ragazzi, il video può finire qua. Vi ringraziamo per la visione. Consigliateci qua sotto nei commenti altri posti da andare a visitare. Mi raccomando che qui sotto le feste, Waiju, si mangia e ci facciamo dei panzoni. Tu devi dare la conferma che panzone che sei. Vediamo nel prossimo video. Lasciate un bel like, come raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, Waiju. Forza Napoli sempre, anche se siamo fuori a un'osteria romana. Sempre, forza Napoli. Sempre, sempre. Ciao, Waiju, ciao.